I carabinieri della compagnia di Trani, alertati da una chiamata al 112, hanno arrestato un'albanisse 27enne per tentata estorsione. Nel pomeriggio di ieri in via Malkangi, in una delle consuete affollate giornate estive, il 27enne in evidente stato di alterazione psicofisica si è avvicinato ad un distributore di carburanti e senza apparenti motivazioni ha iniziato a minacciare il proprietario, chiedendogli con insistenza la consegna di una somma di denaro. Alla resistenza della vittima il malfattore, pur barcollando, si è allontanato dal luogo cercando di far perdere le proprie tracce. L'immediato intervento di una patrulla della radiomobile della compagnia Carabinieri di Trani, che già si trovava in zona, ha consentito di acquisire subito dall'esercente la dinamica dei fatti, ovvero la richiesta di una somma di denaro con la minaccia di un male ingiusto e di attivare immediatamente le ricerche del malfattore, grazie alla descrizione delle caratteristiche somatiche dell'abbigliamento. Pochi minuti dopo, infatti, gli stessi militari sono riusciti a dimiduare l'uomo nelle vie limitrofe, bloccandolo ed arrestandolo in fragranza di reato. Il giovane pluripregiudicato alla vista dei Carabinieri ha cercato in vano di opporsi all'arresto, divincolandosi e tentando la fuga, venendo così denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale. Per lui, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si sono aperte così le porte della casa circondariale di Trani.